Eccolo l'artefice di questa scalata, la mente della rinascita, l'uomo della promozione, il grande Mr. Moruzzi, già conosciuto dal grande calcio, chiedere a niente popo di meno che a Mr. Caragnana, questo simpatico guarda, e infatti ci si è detto Caragnano, guarda, e perché hai detto Caragnana? Perché sono stanco, questo simpatico paffuto uomo, vedete che è raggiunto il momento di fare il grande salto, unire i suoi ragazzi a ciò che rimaneva della storia con il Marinaldi, provare a cambiare la mentalità e passare dal dobbiamo prendere un gol meno degli altri, a dobbiamo fare un gol più degli altri, missioni riuscita direi di sì, ma per il che più la scena del passacenici è più importante, dove anche la fase difensiva diventerà fondamentale. Per adesso accontentiamoci del miglior attacco del campionato, primato ma in discussione, poche cocenti sconfitte subito riscattate da prestazioni sontuose, mix tra giovani, giovanissime e qualche pochissime, a dire il vero, vecchierelli. La parola è stata la sua arma, provare a far capire la sua filosofia fin dall'inizio è stata la sua arma vincente, far capire sempre le sue scelte, giustificarle anche quando non ce n'era bisogno, ma si sa, quando si vince sono tutti tutti. Ma se quest'uomo porterà con sé un po' di umilté, come dice il grande Arig, allora anche l'eccellenza riserverà soddisfazioni. Voto nove e mezzo! Bravo!